Cari spettatori, amici del Varieté, calorissimo pubblico, Buonasera qui al Sperlamato. Nella prima parte del programma venuto direttamente dal Cairo la famosissima Molita del Sudan, una danzatrice del vento, accompagnato, come sempre, della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego, maestro, a lei. Grazie a tutti. Sono otto, sono otto di Catania, sono arrivato a Roma venti anni fa, sono qui per vivere, per vivere la mia vita, per mangiare, per osso buco e rivivino. Ma tutti questi giorni voglio inventare tutti i miei cimei, per celebrare la mia vita. Amici, grazie, grazie per venire, grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale, con Marcello, con Luciano, con Verena, la Sirena. Grazie per venire, è il mio nome otto di Catania. Sono arrivato venti anni fa. Grazie per venire, grazie per venire. Grazie. Grazie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 !